trading su opzioni. Oggi vedremo, tanto vedete le slide del mio sito portafogli protetti e fare trading con le opzioni.it, oggi vedremo sostanzialmente un'applicazione della ASTO. Allora, chi ha letto il mio libro fare trading con le opzioni edito dalla Upli, avrà visto che ho dedicato nell'edizione del 2019 di questo gennaio finalmente un capitolo dedicato alle strategie di tipo assoluto. Cosa intendo per strategie di tipo assoluto? Sono le strategie che vengono reiterate mese su mese per poter generare un profitto tipicamente vendendo opzioni o comprando opzioni in determinati casi. Quella che vediamo oggi è una delle strategie dell'arsenale ASTO e si chiama short bias. Si chiama short bias perché io lavoro fondamentalmente sugli indici di borsa. due domande, visto che ci sono un po' di ragazzi anche giovani, finalmente stamattina mi fa piacere vedere qualche faccia nuova. È questa. Conoscete già le options? Le utilizzate? Le avete mai affrontate? Non sapete nulla di questo mondo? Perfetto. I signori qui davanti? Lei le conosce? Sì, siamo già visti. Infatti il signore? Anche. Perfetto. Ma ci seguono molto in diretta Luca. Esatto. Salutiamo chi ci segue dalla diretta. Molto bene. Signori, facciamo un brevissimo riassunto per chi non conosce il concetto di options e poi andiamo a entrare nel vivo della strategia e della metodica. Le opzioni sono degli strumenti finanziari che consentono di comprare o vendere un determinato strumento a una scadenza per un determinato strike price o prezzo di esercizio. Quello che noi vedremo oggi è le opzioni sugli indici di borsa, in particolare la short bias nasce dalla vendita di opzioni put su indici e poi seguono altri due step, futures a copertura e opzioni call a copertura dei futures. Questo è il percorso che vedremo quest'oggi. Ricordo che cos'è un'opzione put. L'opzione put sugli indici è un'opzione che dà il diritto di vendere l'indice, quindi diritto è la parola chiave, vendere è l'altra parola chiave, l'indice ha una determinata scadenza a un certo strike price. Adesso vedremo sulla mia quick trade di VBank che io ho venduto una put 7800 punti sul Nasdaq, scadenza 30 ottobre 2019. Quindi parliamo di un'opzione che scade settimana prossima. Questa è un'opzione cosiddetta end of month, esistono delle opzioni che scadono tutti i fine mese. Vedremo quanto avrò incassato, vedremo come mi posiziono per difendere questa vendita. Perché ho fatto questa vendita? E perché si chiama short bias. Allora, il concetto è questo. Voi sapete che gli indici di borsa salgono tipicamente lentamente e poi crollano e scendono velocemente e poi risalgono nel tempo. Tipicamente gli indici di borsa sono degli oggetti rialzisti nel medio-lungo periodo. Se così non fosse, vuol dire che l'economia sottostante a quella borsa, a quel paese, non sta girando. Se pensiamo alla nostra Italia, il Fuzzimib Italia, dopo i massimi che era giunto nel marzo del 2000, e siamo al 2019, quindi a 19 anni dopo, è un indice decisamente al di sotto dei massimi. Il prezzo dell'indice non tiene conto dei dividendi che sono stati pagati in questi anni, però anche tenendo conto dei dividendi, l'indice è sicuramente molto al di sotto dei suoi massimi del 2000. Questo ci dice che cosa? Se in vent'anni il nostro indice non ha aggiornato nuovi massimi, vuol dire che l'economia italiana, e lo riscontriamo negli annunci, nei telegiornali, tutti i giorni, non è così in forma come lo era vent'anni fa. Invece abbiamo degli altri indici, il DAX tedesco, o gli indici americani, soprattutto l'S&P 500, il Nasdaq 100, che sono sui massimi di sempre. E quindi hanno dimostrato in questi vent'anni che le economie sottostanti, la Germania, gli Stati Uniti, stanno viaggiando molto bene. Quindi di base, nel tempo, l'andamento di un indice è rialzista. Perché vi dico questo? Perché short bias, cosa vuol dire? Il bias, in linguaggio tecnico-finanziario, è un presupposto, è un'assioma, è un'ipotesi che si fa quando si crea una strategia. Short di put vuol dire che io, di base, non voglio vendere call sugli indici di borsa, non farò mai di vendere call sugli indici di borsa, ma voglio vendere put. Perché la vendita di put mi dà un profilo, tipicamente, se non è rialzista, non è neanche ribassista. Cioè mi dà la possibilità di incassare un premio e di dover difendere un livello di indice se il mercato scende al di sotto di quel livello. Quindi di base, la strategia assoluta, perché io sceglierò, mese su mese, settimana dopo settimana, un livello di indice sul quale iniziale a vendere le mie put. Ok? Andiamo avanti con la presentazione, così capiamo meglio di quello di cui sto parlando. Allora, quando noi costruiamo un option trading plan, cioè un piano di trading sulle opzioni, dobbiamo decidere alcune cose. Dobbiamo decidere se vogliamo operare in maniera direzionale oppure in maniera non direzionale. Io su questo tipo di strategia, che chiamo short bias, ho scelto di essere direzionale, diciamo non ribassista. Lì abbiamo messo per semplicità soltanto le due direzioni classiche, bullish rialzista, bearish ribassista. Invece io sostanzialmente mi posiziono in una logica non rialzista, cioè se il mercato sta fermo guadagno, cioè se il mercato sale guadagno, se il mercato scende dipende quanto scende e come scende. Quindi se io mi vendo la mia put sull'indice, ipotizziamo che la mia put mi abbia dato un incasso di 50 punti sul Nasdaq. Adesso vi parlo del Nasdaq, ma potremmo farlo sugli altri indici. Io gli indici che in questo momento utilizzo di più sono il DAX30 e il Nasdaq. Bene, il valore punto sul Nasdaq è 20 dollari. Quindi significa che quando io vendo una put, meno una put allo scoperto e incasso 50 punti, ok, per 20 dollari, ok, io ho 1000 dollari di incasso. Questo incasso lo posso realizzare in una settimana, lo posso realizzare in due settimane, lo posso realizzare in tre settimane, dipende dalla volatilità. Se il mercato è molto volatile si fanno velocemente, anche settimanalmente, altrimenti no. Quindi se il mercato sale, io incasserò tutto il premio della mia put e porterò a casa i 1000 dollari. Se il mercato rimane laterale, comunque al di sopra dei 7800 punti continuerò a guadagnare i miei 1000 dollari. Se scende dovrò difendere la posizione perché al di sotto dei 7800 punti potrei perdere in maniera teoricamente illimitata. Quindi, perché in questo caso uso leva finanziaria. Quindi dobbiamo capire come difendere questa zona. Però capite che se l'oggetto su cui faccio l'operazione nel medio-lungo periodo, buongiorno a tutti, è fondamentalmente, ciao Ital, buongiorno a tutti, è fondamentalmente rialzista, diciamo che già in due casi su tre io mi pongo nell'ottica giusta. Ok? Dovrò chiaramente vedere cosa succede se qua ho dei problemi e che ordini fare. Chiedo scusa perché io mi muovo, grazie. E vediamo quindi di cosa parliamo. Abbiamo detto che la short bias è una strategia direzionale non ribassista. Abbiamo detto che la short bias è una strategia assoluta. Cioè, mese su mese, settimana dopo settimana, la ripeto costante nel tempo. Non è dinamica in questo senso. Ok? E quindi non valuto di volta in volta prezzo e volatilità, ma reitero la strategia nel tempo. Vediamo le caratteristiche, gli elementi chiave. Allora, la combinazione è fatta in tre step. Il primo step è la vendita di put, adesso lo vediamo bene. La focalizzazione, gli indici di borsa. I preferiti che sto usando in questo momento, il DAX 30 e il NASDAQ 100. La posizione è singola, quindi io non lavoro in un'ottica di portafoglio. Posso avere contemporaneamente put vendute sul DAX e put vendute sul NASDAQ, però non è che una compensa l'altra. Ok? Ognuna lavora in maniera autonoma per i fatti suoi. Ok? Utilizzo leva finanziaria? Sì. Che tipo di analisi svolgo? Sicuramente un'analisi di tipo giornaliero. Quindi non è che prendo la posizione su grafici intraday. Assolutamente no. L'analisi è di tipo giornaliere. Il mio set di indicatori anche per questa strategia è quello classico. Media mobile a 20 giorni, semplice. Media mobile a 200 giorni, semplici. E indicatori di volatilità. Nessuna ottimizzazione. Adesso andiamo a vedere di che cosa stiamo parlando nel dettaglio. Innanzitutto si parte vendendo una put in leva finanziaria. Cosa vuol dire venderla in leva finanziaria? Ad esempio, per vendere la put 7800 sul Nasdaq, un contratto, ok? Che tipo di esposizione ho? Dobbiamo fare i conti, ecco perché sapete che mi porto sempre la calcolatrice. Allora, se io sono esposto per 7800 punti, che è il valore dell'indice a cui vendo la put, e so che ogni valore punto corrisponde a 20 dollari, io basta che faccio i miei 7800 per 20, 156.000 dollari è il controvalore della mia operazione. Quindi questo lo devo sapere. Cioè, io sto muovendo 156.000 dollari. Ma i VBank mi chiede 156.000 dollari per fare questa operazione? Assolutamente no. Come le casse di compensazione e garanzia, mi chiede una frazione, il margine. Il margine che, in questo caso, potrà essere una frazione e probabilmente una frazione che si aggira sui, diciamo, 6500-7000 dollari. Quindi è chiaro che se io ho sul conto 7000 dollari, faccio l'operazione, vendo la put e incasso 1000 dollari, ho una posizione a leva, perché se con 7000 dollari ne controllo 156.000 di controvalore, ho una bella esposizione. Naturalmente, man mano che il mercato scende, i margini salgono, perché la cassa di compensazione e garanzia e la banca, i VBank, si vogliono tutelare che io possa avere tanti soldi per mantenere la mia posizione. Per fare questo, il nostro conto, quindi, deve essere ben più capiente dei 7000 dollari iniziali. Altrimenti, appena si muove, andiamo già in margin call. Chiaramente, se noi copriamo questa posizione e vediamo come si fa col future, improvvisamente cambia lo scenario e i margini cambiano. E li metto a posto. Guardiamo i vari step della operatività. Quindi, vendita di put in leva finanziaria. Io devo avere margini fino a tre rivendite. Questo è molto importante. Devo poter vendere, io li chiamo tre proiettili. Parto da un proiettile, una base venduta, ma devo avere la possibilità, entro la scadenza scelta, in questo caso il 30 ottobre 2019, di poter fare altre due rivendite. Quindi, capite già che 7x3, 21, un pochino di margine di spazio, io devo avere sul conto a meno 30.000 dollari. Diciamo 26-27.000 euro per fare questa operatività sono necessari. Se usate meno soldi, non ci state dentro, assolutamente. Quindi, devo avere la possibilità di fare tre rivendite. Venderò dei futures a copertura statica su determinati livelli ed, eventualmente, acquisterò delle call per la copertura sui futures. Poi lo vediamo con gli esempi pratici. Guardiamo bene cosa succede nei vari step. Non guardate i numeri, ora non è che importa molto. Il concetto è questo. Vendo la put, la prima put che vendo, ho un incasso e ho un rischio, teoricamente, illimitato se il mercato scende sotto il livello di strike venduto. Il secondo step sarà se il mercato arriva a determinati livelli tecnici, io mi vado a coprire vendendo futures. Se io vendo futures per pari quantità, che cosa succede? Succede che il mercato diventa così e la mia strategia si gira, diventa ribassista. Perché? Allora, ogni opzione sull'indice Nasdaq controlla un future Nasdaq. Quindi, un'opzione, un future mini Nasdaq, esattamente. Ok? Quindi, se io vendo, l'ho scoperto, un future mini Nasdaq avendo venduto l'opzione per proteggere i miei 50 punti di incasso improvvisamente la mia profilo di rischio rendimento diventa questo. Quindi, il problema mi si pone se il mercato mi risale a questo punto. Andrò a coprire ulteriormente andando a comprare delle call che metteranno un pavimento alle mie perdite in caso di risalita. Vediamo quando farlo e come farlo. Quindi, vi ripeto, i tre step della strategia sono inizio vendendo le put. A certe condizioni devo coprire le put vendute e difendere l'incasso. Vendo i future. Una volta venduto i future divento ribassista come visione. Se per caso il mercato mi risale devo coprirmi dal rialzo e allora comprerò delle call e trasformo la strategia in una S, in una Z fatta in questo modo. Non vi preoccupate ora se le perdite sono superiori ai guadagni eccetera eccetera. È semplicemente per farvi capire la logica della strategia. I vari passaggi. È chiaro fin qui? È chiaro fin qui? Allora, andiamo un po' a vedere nel dettaglio di che cosa parliamo. Io cerco quando vendo le put di avere un incasso almeno del 3%. Ecco, su che cosa viene calcolato il 3%? Sul valore del mio conto. Quindi, se io ho 30.000 euro sul conto sostanzialmente io voglio fare un incasso di almeno 900 euro. Quindi vedete che ci siamo perché lì incasso 1000 dollari con 50 punti, no? Quindi ci siamo. L'idea è all'interno del mese di avere un incasso tra tutte le put vendute almeno superiore al 5%. Io personalmente mi avvicino molto di più al 10% che al 5%, ok? Le strategie in opzioni possono essere settimanali o mensili dipende dai livelli di volatilità. Se la volatilità è molto alta mi posizionerò su base settimanale. Se la volatilità è molto bassa mi posizionerò su base mensile. Valuto l'andamento su base giornaliera. All'interno di un anno di lavoro con questa metodica devo poter incassare premi per almeno il 50% del mio conto il che significa che se ho 30.000 euro sul conto devo poter incassare per almeno 15.000 euro altrimenti sto lavorando male. Gestisco dinamicamente e discrezionalmente che cosa? La vendita dei future. La volatilità sicuramente di questa strategia è alta ma è, lì c'è un errore di ortografia, è inferiore allo short naked cioè alla vendita nuda e cruda delle opzioni. Usciamo un attimo poi vi completo le slide dopo. Ok. Andiamo a vedere un attimino il mercato. Allora. Tanto questa è la Quick Trade di VBank aperta uno dei miei schermi dalla Trading Room siamo collegati in remoto. Allora. Vediamo innanzitutto il quadro dei mercati. In alto abbiamo l'oro stabile un po' sotto i 1.500 dollari l'oncia abbiamo il petrolio in discesa dopo che ha raggiunto dei massimi stamattina a 55-75 dollari al barile sta ripiegando sui 55 e mezzo il Bund stabile a 171 e mezzo abbiamo l'euro-dollaro in discesa dai massimi di stamattina a 1.1165 e lì sotto vedete i tre grafici e i quattro grafici tick by tick delle grandezze che seguo. Quindi abbiamo il DAX abbiamo l'Eurostoxx 50 abbiamo il nostro S&P 500 e il Nasdaq 100. Vedete che il Nasdaq in questo momento sta veleggiando sui 7.930 punti. Ok. Bene. Questo che vedete in alto è il grafico giornaliero del Nasdaq del future continuo del Nasdaq. Come vedete ci sono sempre le mie solite indicazioni quindi media e mobile a 200 giorni media e mobile a 20 giorni supporti a resistenze dinamici e volatilità. Allora una breve analisi del future ci fa capire che siamo in un trend rialzista perché i prezzi sono al di sopra stabilmente della media mobile a 200 e della media mobile a 20 media mobile a 200 e a 20 positivamente inclinate quindi ok contesto rialzista. In questo contesto l'ultima operazione che ho fatto quale è stata. Allora andiamo a zoomare. Allora io quando eravamo qua diciamo a lunedì sostanzialmente ho fatto un'apertura vendendo l'opzione 7.800 sul Nasdaq che all'epoca era out of the money perché viaggiavamo sui 7.900 sostanzialmente quindi 100 punti sotto perché ho scelto quell'opzione ho scelto quell'opzione vi faccio vedere perché come vedete la media mobile a 20 giorni sostanzialmente veleggiava su quel livello d'accordo? Quindi a 7.800 era il livello andiamo a configurare la linea orizzontale la facciamo bella grande vediamo se è qua ecco la mettiamo qua bella grande ok torniamo sul monitor 5 ecco questo era il livello che ho scelto perché perché quando ho fatto l'operazione cioè inizio settimana il mercato era distante 100 punti per me è un supporto molto importante la media mobile a 20 come vedete nonostante la discesa fatta due giorni fa ok e poi con il minimo di ieri non è stato violato questo livello un altro supporto che mi piaceva esattamente sotto dove ho sparato gli altri due proiettili è stato la 7750 cioè qui adesso mettiamo un'altra spessore anche qui allora la configuriamo facciamo una bella grossa ecco monitor 5 vedete questa è la fascia di prezzo su cui ho venduto le put 7800 e 7750 quanto ho incassato e come ho posizionato gli ordini di vendita sui future a copertura allora vediamo il portafoglio in questo momento in questo momento monitor 4 il portafoglio è composto è composto da una strategia analoga e opposta sul bund non ci fate caso perché quella è lavora in un'altra logica sostanzialmente e poi abbiamo la nostra put 7800 venduta ho incassato 50,5 punti in questo momento sta guadagnando 370 dollari ok poi ho le due put vendute gli altri due proiettili sempre al 30 di ottobre che sono stati venduti abbastanza maluccio a 23 punti ok questo perché sostanzialmente prima della discesa di ieri no si è stata è stata fatta una valutazione non corretta cioè che il mercato stesse per rompere nuovi massimi invece con ieri e l'altro ieri ha fatto una discesa e quindi quelle opzioni si sono gonfiate molto in questo momento perdono 200 dollari ma in realtà a scadenza chiaramente avremo il nostro massimo potenziale se noi avessimo lavorato correttamente con la strategia ma ieri ero qua impegnato e anche martedì avevo un impegno sostanzialmente avremmo dovuto vendere le due put a 7.750 anch'esse sui 50 punti in modo da avere un incasso di circa 3.000 dollari invece in questo caso ci troviamo sostanzialmente ad avere un incasso totale di 1.900 dollari ok tra le due vendite allora qui bisogna iniziare a coprire nel caso di io che cosa ho fatto ieri siccome il mercato stava scendendo ho iniziato a coprire parzialmente cioè quello che io non faccio è coprire tutto sul livello 7.800 cioè mettere un ordine condizionato vendi un future Nasdaq mini Nasdaq a 7.800 punti se il mercato scende inizi a coprirmi prima da poco tempo chiedo anche l'aiuto a Luca Petrucci è stata introdotta dal mercato CME ma anche quindi dai VBank che ha tutte le cose del mercato tutti gli strumenti del mercato i micro Nasdaq e i micro S&P magari ve li faccio introdurre da lui perché qui come vedete ci sono già 6 micro Nasdaq aperti ok prego grazie per l'assist intanto noi l'abbiamo riportati a perché vogliamo dare una visibilità perché secondo me a livello formativo coloro che si avventurano per la prima volta sul mercato americano specialmente i derivati sono veramente una cosa un strumento eccezionale perché l'abbiamo riportati in fondo la classifica i derivati top parliamo di mini Dow Jones mini Stan S&P e mini Nasdaq qual è il grande vantaggio di questi tre strumenti al contrario del mini Nasdaq mini Stan S&P i micro così come vengono definiti quotano 10 volte il valore del precedente contratto facciamo un esempio concreto parliamo del mini Stan S&P ogni punto sullo Stan S&P sono 50 dollari agli attuali valori insomma notiamo come il controllore della posizione è estremamente importante è sempre intorno a 350 a 200 mila dollari il micro ovviamente essendo un decimo del contratto grande si ragiona su cifre tra i 15 e i 20 mila dollari per dare un'idea chi si approccia per la prima volta su un derivato specie americano quindi vuole lavorare con una leva estremamente più bassa secondo me i micro se parliamo di Stan S&P così come di Nasdaq e Dow Jones si prestano molto a questa attività di trading per due ragioni primo i margini viaggiano tra i 500 e gli 800 euro quindi disponibili a chiunque si avvicini per la prima volta al trading online secondo la commissione che viene applicata su questi derivati da parte di Ubank è pari a 1 euro e 50 quindi lo strumento è vero che ha una leva estremamente più bassa rispetto agli altri contratti ma consente anche per coloro che si avvicinano per la prima volta a questo tipo di derivato di fare tra virgolette anche dello scalping bastano due o tre tic e uno già inutile di commissioni questo cosa voglio dire lasciando sta un attimo un discorso con missioni in ottica educational avvicinamento dello strumento derivato specie americano dove c'è una volatilità nettamente più importante rispetto al nostro sono veramente gli strumenti validi per ottenere iniziare la negoziazione quindi osservateli negoziateli se avete domande siamo qui a nostra disposizione a te Luca sì io sto inserendo degli ordini che poi adesso vi spiego ok scusate che poi qui non sono abituato ho uno schermo solo mentre di là ne ho sei perciò se ti serve una mano Luca arrivo no 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 tranquillo allora eccoli qua li abbiamo inseriti allora io in questo momento che posizione ho non ribassista sul scusate non ribassista sul mercato meno due venduti a 7.750 meno uno venduto a 7.800 quindi se io dovessi fare l'equivalente in termini di mini Nasdaq e dovessi coprire tutte le basi sarebbero tre mini Nasdaq da vendere ok siccome i micro Nasdaq sono un decimo ogni contratto del mini ok io dovrei avere se volessi coprire tutte e tre 30 micro Nasdaq aperti ok mi seguite fin qui bene ieri quando il mercato scendeva su degli swing rialzisti ho iniziato a fare una copertura parziale cioè ho iniziato a vendere scalettandoli dei micro Nasdaq ne ho venduti 6 a un prezzo medio di carico di 788 punti in questo momento sta a 7933 quindi sto perdendo 541,5 dollari sulla copertura ok io questa copertura non la incrementerò più anzi mi porrò il problema di come difendere la copertura se il mercato continua a salire e adesso vediamo come si fa però se il mercato dovesse iniziare a scendere questi mi copriranno prima la base 7800 e poi la 7750 ben 88 punti prima dello strike quindi qui avrei addirittura un grande guadagno di 88 punti se il mercato scende a 7800 nel frattempo io ho iniziato a riposizionare questo lo faccio giorno per giorno degli ordini di vendita condizionati se il mercato scende a determinati livelli ne vendo altri 3 a 7835 ne vendo altri 3 a 7815 ne vendo altri 3 a 7785 quindi sarebbero 9 più 6 sarei esattamente a 15 quindi se il mercato dovesse riscendere da qui al pomeriggio di oggi a 7785 quindi ribucando i 7800 io sarei perfettamente in delta edging perché ne avrei 15 venduti contro due opzioni il cui delta in quel momento è circa meno 05 e quindi sono in perfetto delta edging a quel punto devo decidere se vendere gli altri 15 micro per coprire definitivamente la posizione oppure no sapendo che io ho un obiettivo arrivare alla scadenza del 3010 con la posizione difesa quindi questa è la logica ok ora se non avessi fatto niente ieri non avrei in questo momento questa perdita potenziale ma non è chiusa l'operazione quindi non lo sappiamo è vero però io mi sono avvantaggiato ieri perché il mercato stava iniziando a scendere quindi ho fatto un'operazione di copertura adesso per non lasciare andare le cose perché non voglio lasciare andare le cose andrò a vedere quali potrebbero essere le call da comprare per difendere i micro nasdaq in difesa allora andiamo a vedere tanto andiamo a vedere come sta il mercato guardiamo il monitor 6 questo è un intraday io non faccio analisi sull'intraday ma semplicemente mi serve per vedere che cosa sta facendo a livello di mercato fondamentalmente ha provato un minimo stamattina prima delle 8 poi ha fatto un bel massimo verso le 9 e mezza e poi adesso sta lateralizzando se lo guardiamo daily ok questo è il grafico daily del nostro nasdaq come vedete rispetto ai due strike che io ho venduto questo e questo il mercato sostanzialmente con la chiusura di ieri fatta in serata ha negato il fatto che potesse ritornare a rompere i minimi io di fatto cosa ho fatto ho iniziato a vendere tre micro qui tre micro qui adesso addirittura mi ha aperto sui in in gap quasi poi ha rimangiato e poi è ripartito come vedete la configurazione sinceramente sembra più rialzista che ribassista cioè sembra che questo mercato abbia voglia dopo aver fatto questo swing in aria fino a circa i 7800 punti di ritornare verso l'alto questa voglia di salire chiaramente condiziona i nostri sei micro nasdaq aperti quindi noi dobbiamo fare che superati certi livelli ok sicuramente questo livello tratteggiato dovremo scegliere delle opzioni call a copertura su che scadenza vado vado sempre sulla stessa scadenza quindi adesso prendiamo il monitor 4 e andiamo a vedere sul nasdaq la situazione allora tanto vediamo i codici nq z9 è il future che scade a dicembre su cui sono basate le opzioni andiamo dalla base 7000 alla base 8100 cerchiamo ok come vedete la quick trade ci dà tutte le basi del nostro 30 di ottobre andiamo più su quelle at the money eccole qua ok allora come vedete in questo momento il mercato sta a 7928 sostanzialmente io quello che posso fare per difendere tranquillamente il mio incasso è andare a comprare un'opzione call ok che comprerò io tendo a comprare le call per difendere i future short tendenzialmente o let the money ok o appena out of the money ad esempio potrei andare a vedere la 7940 la 7950 in questo momento quotano abbastanza care vedete che la 7950 quota 58 e mezzo 65 quindi diciamo che quota circa 60 punti no come vedete in realtà a me la spesa per l'acquisto delle call mi interessa relativamente poco perché non è detto che io mantenga fino a scadenza l'opzione se il mercato inizia a salire violentemente io a quel punto faccio che chiudo i future che sono stati aperti short e chiudo l'opzione call a copertura dei future lasciando solo le put nude che a quel punto scadranno senza valore perché sono molto lontane quindi questo è per cui in questo momento una cosa che potrei fare è fare una terza rivendita di quattro contratti per avere 10 micro nasdaq short sostanzialmente e a quel punto coprirmi comprando una call data la situazione di mercato ed è proprio la cosa che andremo a fare allora innanzitutto andiamo a quattro così abbiamo completato la base vediamo se va ok quattro ce li vendiamo qui sul denaro a 29 25 vendi allora adesso li abbiamo eseguiti ah no scusate è rimasto l'ordine cancelliamo questo abbiate pazienza perché da uno schermo solo muovere i sei schermi non è facilissimo lasciamo un attimo il trader modificare la posizione e voglio farvi vedere soltanto come gli ordini che aveva inserito che adesso sta andando a modificare erano tutti in attesa cioè non erano ordini sul mercato ma erano ordini sul nostro server esegnenti questo per può dare due vantaggi il primo non farsi vedere nel book chiaramente su un micro nasdaq non ha un grandissimo valore quello che magari ha più valore per gli ordini condizionati che sono in attesa è il fatto che fino a quando non si realizza la condizione sul mercato noi come i vbank non vincoliamo la liquidità quindi se ci dovesse essere un cambio di strategia improvviso oppure il trader trova un'altra occasione su un altro titolo su un'altra azione quegli ordini che aveva inserito che adesso sta modificando non impegnano la liquidità quindi come tale una modifica all'ultimo di quello che è la sua strategia può essere fatta perché la liquidità tra virgolette è rimasta inalterata un dettaglio a non di poco conto può mettere il nuovo ordine tranquillamente e cancellare poi in un momento successivo gli ordini condizionati inseriti tanti ai fini della disponibilità operativo non c'è alcun impatto secondo me è un elemento che per l'ordine condizionato può risultare vincente anche l'attività aperta di quotidiano a te Luca ok grazie allora siamo riusciti a fare la vendita degli altri 4 micro quindi in questo momento abbiamo 10 micro short a un prezzo medio di carico di 7904 punti quindi non siamo lontanissimi dal livello attuale ho messo dentro l'ordine di acquisto di una call 7.960 a 61 punti adesso vediamo se il mercato scendicchia un attimo ce la eseguono e noi abbiamo da una parte coperto ok la salita dall'altra abbiamo difeso perché abbiamo già un mic di fatto un mini Nasdaq che sono la somma dei 10 micro Nasdaq i nostri i nostri le nostre put quindi in questo momento l'ideale sarebbe che il mercato riscendesse riscendesse in aria 7800 punti perché noi guadagneremo 100 punti dalla copertura dei future avremo coperto perfettamente la 7800 quindi portandoci a casa sicuramente altri 50 punti di incasso dalla put e avremo tutti questi ordini in attesa che inizieranno a coprire man mano che scende le altre due put vendute come vedete sono anche abbastanza vicino alla scadenza quindi non è che devo rimanere sul mercato tantissimo eccetera viceversa se il mercato dovesse continuare a salire a quel punto queste si sgonfieranno sempre di più portandomi il loro massimo utile di circa 1900 dollari ok io nel frattempo però questi 10 li avrò coperti comprando la call adesso vediamo se ce la fanno naturalmente se non ce la fanno mi avvicinerò per essere eseguito non è detto che poi da qui alla scadenza del 3010 io perda tutti i miei 61 punti spesi per l'acquisto della call perché perché se il mercato mi va tantissimo su va 8.050 8.100 a quel punto chiuderò la call in guadagno anzitempo chiuderò anche i 10 venduti short il guadagno della call equilibrerà più o meno la perdita sui micro ci saranno probabilmente un 500 600 dollari di perdita fra la somma delle due e io però avrò realizzato praticamente per certo l'incasso dei miei 1900 dollari dall'altra parte quindi è un gioco di scacchi la short bias fatto vendendo le put vendendo i future a copertura delle put laddove venga richiesto perché se non ci fosse stata la discesa dell'altro giorno io non avrei fatto nulla e qui sarei tranquillamente in guadagno senza nessun tipo di problema se viene richiesta io quello che faccio è cerco di anticipare lo strike cioè vendo molto prima dello strike con degli ordini limiti di prezzo scalettati che adesso i micro ci consentono di fare mentre prima non potevo farli prima potevo fare un mini nasdaq un'opzione era molto più un lavoro da cecchini questo invece è un lavoro molto più tranquillo grazie ai micro nasdaq e quindi ci andiamo a posizionare in questo modo quindi questa è la situazione vediamo la nostra call come si è posizionata 61-66 è questa vedete adesso ve la faccio vedere sullo schermo 3 ecco 61-66 noi siamo questi due possiamo anche revocare l'ordine allora andiamo a revocare perché le conferme me le spara sugli altri eccoli qua sugli altri monitor proviamo a comprarla a 63 ecco vedete che sono il primo in denaro a 63 vediamo se ci fanno chiaramente ieri aveva un riferimento molto più basso perché il mercato è salito chiaramente da ieri sull'acquisto della call non mi preoccupo se spendo anche più punti di quelli che ho incassato primo perché tendo ad avere un rapporto di proporzione 1 a 3 tra le call comprate e le put vendute secondo perché sostanzialmente ripeto non è detto che io la mollo fino a scadenza e quindi quei 63 punti non è detto che non li recuperi o almeno una parte di esse quindi vediamo se adesso ci eseguono come vedete il mini Nasdaq comunque è vicino ai massimi che ha fatto stamattina alle 9 per cui è in questa situazione vi faccio notare che ieri in apertura di mercato all'inizio vedete che l'ha sfiorato i 7800 punti motivo per il quale abbiamo iniziato a coprirci in quest'area anticipando poi il mercato è solo che è salito va bene però essendo solo che è salito non ci ha dato lo spazio di guadagnare dalla copertura vero ma anche le nostre opzioni che sono vendute qui e sono vendute qui naturalmente si sgonfiano man mano che passa il tempo quindi questo è un elemento molto importante da tenere presente se vado a vedere il calendario ok il calendario mi dice che il 30 a scadenza di queste opzioni è mercoledì quindi di fatto io ho due giorni di borsa aperta cioè oggi e domani e poi ho tre giorni di borsa aperta settimana prossima lunedì martedì mercoledì quindi di fatto questa strategia comunque entro cinque giorni si chiude comunque si chiuda quindi una strategia di vendita nuda aggressiva ma con come dire la gestione dinamica della copertura è chiaro che questo tipo di logica presuppone il fatto che chi opera stia abbastanza davanti al video non è strettamente necessario starci tutto il giorno perché inserendo gli ordini condizionati che abbiamo visto prima inserendo gli ordini con limite di prezzo che abbiamo visto prima in quei casi è possibile tranquillamente far sì che vengano eseguiti e poi controllarli ogni tanto però un minimo di operatività e di attenzione va fatta adesso vi rilancio le slide ripeto quindi l'obiettivo è cercare di portare un 3% a singolo livello di vendute vedete che nell'esempio reale che abbiamo visto prima io non sono stato bravo perché le 7.750 non sono state vendute a 50 punti avrei dovuto venderle a 50 punti se avessi aspettato a fare la terza rivendita la seconda e la terza rivendita lo avrei fatto perché ieri quando è sceso valevano anche 60 70 punti quindi sarebbe stato come timing migliore a livello mensile almeno un 5 ma io sono più sul 10 che sul 5 strategie in opzioni come vedete settimanali o mensili tra l'altro vi ricordo che sugli americani e sugli europei ormai tutti gli indici quotano le settimanali e le mensili quindi sono anche liquide mentre una volta non ero liquide adesso sono liquide quindi si possono lavorare valuto l'andamento su base daily voglio incassare almeno il 50 ma io sono più vicino al 60 70 all'anno dalla vendita di queste put naturalmente è un incasso che è da difendere non è che sono soldi già in tasca vanno difesi questo è importante gestione dinamica sui future e una volatilità un pochino inferiore a quella delle naked allora una cosa importante per decidere il timing definire il trend principale come abbiamo visto insieme e quindi fare gli ordini per i primi due step per cui lavoro sulla SMA 200 definire il trend e i livelli delle put SMA a 20 l'avete visto su quali su quali livelli vendo le put tipicamente sulla SMA a 20 questo è il mio livello poi è chiaro che vado a vedere anche se c'è un minimo se c'è un massimo quindi faccio dei ragionamenti definisco la forza del mercato attraverso l'analisi della volatilità e individuo supporti e resistenze scelta delle put tipicamente io mi posiziono un pochino out quindi l'idea sul Nasdaq è di incassare 50 punti l'idea sul DAX è di incassare 70 80 90 punti cioè queste sono un po' le idee di base poi dipende se per esempio mi trovo in una condizione dove il mercato ha appena swingato la media 20 per me riparte lì me la gioco faccio una vendita ATM su quella lì incasserò con questi livelli di volatilità 100 110 punti dal Nasdaq è più grassa è chiaro che se mi viene giù la devo coprire immediatamente perché sono lì però me la posso rischiare quindi dipende un attimino in the money tendo a non farlo almeno che non sono proprio convinto che il mercato salga e basta scadenza la prima possibile con questa volatilità tranquillamente si vende a 10 giorni per questo tipo di cose è chiaro che se il VIX mi ritorna a 12 per ottenere 50 punti sul Nasdaq dovrò vendere a 2-3 settimane cioè è funzione della volatilità questa cosa se il VIX mi schizza a 21-22 tranquillamente in 3 giorni incasso 50 punti cioè quindi è un po' variabile in funzione di e devo sapere aspettare è una cosa importante se non ci sono le condizioni per sparare i proiettili come li chiamo io meglio non farlo stare alla scadenza allarmi sempre su media mobile a 20 se non sono davanti al video elementi di risk management la ripartizione del portafoglio su indici diversi per esempio a me piace lavorare su Nasdaq e su DAX ora in questo caso il DAX non l'avete visto perché c'era una posizione pregressa che sto gestendo sul Bund che mi occupa i margini e quindi non posso farla in quel caso c'erano 3 Bund long in perdita di mezza figura 60p tic esattamente ci sono delle call vendute su cui recuperiamo più o meno 30 tic sono state già chiuse delle altre call su cui avevamo recuperato 60 tic quindi quell'operazione lì è già chiusa in leggero guadagno sostanzialmente come concetto l'inizio è molto importante quando parto e faccio il primo proiettile decisivo è chiaro che l'ideale sarebbe farlo quando il mercato è sulla media 20 e sta per ripartire a rialzo quello è l'ideale non è che si riesca sempre giustamente quindi per esempio io ho finito le mie posizioni scadute del Nasdaq e del DAX il venerdì 18 lunedì quando il mercato ha riaperto il 21 mi sono presentato ho visto ho fatto il livello 7800 ho venduto la put poi ripeto il giorno dopo convinto che partisse subito ho venduto male le put 7750 se no anche quella era da aspettare quando arrivavano a 50 boom dagli anche quelle e lo avrebbero fatto ieri o anche l'altro ieri senza nessun tipo di problema domande su questa logica ne avete prego sì allora la domanda è comunque interessante anche se è arrivato dopo io di base nella logica vendo prima le put e poi short i future questo nel mercato normale cioè il mercato con media mobile a 200 positivamente inclinata prezzi sopra la media mobile a 200 cioè siamo nel classico scenario rialzista quando il mercato invece diventa violentemente ribassista vedi il 2018 da agosto a dicembre abbiamo visto un mercato orso bello tonico in quel caso faccio il contrario prima vendo il future magari su delle resistenze quindi metto un ordine limite di prezzo aspetto che rimbalzi lo vendo perché tanto il mercato ribassista appena lo vendo inizia a scendere sto iniziando a guadagnare sul future allora vendo la put e lì diventa molto più goloso questa operatività qua che qualcuno potrebbe dire sì ma stellato quando il mercato è ribassista con questa roba perdila no se lo fai bene col timing giusto l'anno scorso su un paio di conti piccolini trading da agosto a dicembre abbiamo fatto più 100% abbiamo raddoppiato perché perché vendevamo sulle resistenze il future il future picchiava giù gli vendevi anche le put il future continuava stavi lì a aspettare poi rivendevi il future sull'esistenza rivendevi la put e facevi tutto il giochino così incassavi guadagnavi la future incassavi guadagnavi la future incassavi guadagnavi la future insomma era divertente lavorare in quel modo per cui il massimo tra l'altro quando il mercato diventa primario ribassista la volatilità va alle stelle su opzioni alla stessa distanza non incasso 50 punti su un Hasdac ne incasso 70 80 90 100 cioè diventa divertente ecco da sto punto di vista in questo invece contesto di mercato dove siamo a rialzisti bisogna stare attenti a vendere le put non le devo vendere troppo con incasso scarso devo venderle un pochino però devo stare attento agli swing che fa il mercato perché vendendo prima le put e vendendo dopo i future se non mi copro nei momenti giusti sia al ribasso sia sulle ripartenze rischio che la copertura del future mi mangi tutto l'incasso delle put quindi devo stare attento ci tengo a dire che non è un sistema meccanico ci sono altri colleghi che adoperano difesa meccanica sulle options a me non piace per tanti motivi e quindi la gestione del future a copertura delle put è discrezionale quindi va imparata e introiettata bene ecco da questo punto di vista l'importante è che non lasciate i future andare se avete fatto la copertura del future il mercato sta ripartendo anche spendendo di più compratevi le call perché a quel punto la strategia è chiusa magari portate a casa una perdita ma non rischiate di di del conto siamo stretti coi tempi ah ok grazie quindi c'è la collega che se ci sono domande io tanto vi segnalo il mio libro dove parlo di queste cose fare trading con le opzioni edito dalla Oply nel 2019 il sito di riferimento è fare trading con le opzioni punto it ho il piacere a parte il libro di invitarvi al 30 di novembre alla option first class una giornata di seminario dove approfondisco questi elementi è un sabato è una giornata introduttiva se volete venire solo tanto 49 euro alle vostre spalle c'è la mia collaboratrice Annalisa che può darvi tutte le informazioni sulla giornata del 30 guardiamo ancora un attimo il mercato tanto vi ringrazio già della partecipazione perché sono le 11 e 30 e il mercato e il tempo vola allora qui mi hanno fatto sì guardate ci hanno fatto a 63 siamo stati eseguiti quindi il mercato è un pochino sceso quindi io adesso ho coperto la parte alta quindi se il mercato dovesse rompere i massimi 7,950 8000 8,050 nelle prossime sedute io sono tranquillo i miei 10 micro short sono coperti dalla call valuterò lunedì martedì se chiudere domani scusate c'è ancora domani venerdì lunedì se chiudere anticipamente la copertura se invece dovesse scendere è evidente che i miei future la copertura inizieranno a guadagnare io li ho venduti già 100 punti prima delle 7800 quindi lì avrei proprio il massimo guadagno valuterò se chiudere la call che a quel punto si deprezza da 63 punti magari la chiudo a 30 punti a 35 punti o bene ho perso metà del premio su quella ma mi sono difeso dal caso di quindi il giochino poi è una volta fatto gli incassi sulle put giocare sulla difesa discrezionale del future e la difesa discrezionale delle call per chiudere la strategia dimmi tutto allora il signore chiede se le put rimangono aperte le put rimangono sempre aperte fino alla scadenza perché quelle sono il mio incasso io parto da un incasso parto da una cosa positiva ed è quello che devo difendere ci saranno dei casi in cui la defenderò bene incasso 1000 dollari ne perdo 500 me ne rimangono sempre in tasca 500 ci saranno dei casi in cui le difenderò male perché magari ho sbagliato il timing ho incassato 1000 e ne ho persi 1300 quindi totale meno 300 però l'incasso lo devo sempre difendere c'è solo un caso in cui io le chiudo prima quando il mercato clamorosamente va tipicamente il Nasdaq mi rompesse gli 8000 punti con slancio quello che farò è chiudere le put vendute perché probabilmente stanno già guadagnando l'80% del premio a quel punto rivalutare dei livelli rivendere ma non stessa scadenza rivendere a settimana 1 settimana 2 settimana 3 di novembre e rifarmi un giro a 50 60 70 punti però di fatto è una strategia nuova se andiamo a vedere come concetto quindi è solo quello mi è capitato mi capita a volte in settimane clamorosamente rialziste di fare 2 o 3 roll delle put perché l'ho venduta a 50 dopo 2 giorni vale 10 il mercato sta salendo supporto 50 punti sopra chiudi le put vendute rivendi altri 50 punti sempre stessa scadenza lì è bello anche lì divertente chiaramente il mercato ce lo deve consentire non è che lo fa spesso di base il concetto è vendo e mantengo perché è il mio forziere che settimana dopo settimana mese dopo mese devo difendere ok domande quindi setup rialzista fai l'opposto vedi un setup ribassista usi la stessa tecnica all'inverso ti faccio rivedere le slide perché sei arrivato dopo se no non si capisce allora il setup di base è sempre questo cioè non ribassista perché quando vendi le put il mercato se sale o se lateralizza ma non scende troppo tu guadagni punto quindi io sono sempre di questo avviso che il mercato sia sotto la media mobile 200 sopra la media mobile 200 questa è una strategia di tipo assoluto vendo sempre le put cioè non capiterà mai che parto vendendo le call mai perché parliamo di opzioni su indici di borsa gli indici di borsa sono un oggetto che nel medio lungo periodo è rialzista non è ribassista se no l'economia non va ok quindi a parte il caso Italia infatti vedete che non le faccio sulle Mibo le faccio sul DAX e sulle Nasdaq l'oggetto di base è rialzista ci sono altre asset class l'euro dollar o il bund che invece hanno altre logiche allora lì potrei fare tranquillamente anche ma in questo caso sugli indici di borsa di base si vendono le put nel momento in cui però io inizio a coprire le mie put vendute questo è molto importante la strategia diventa così cioè passo da non ribassista a ribassista perché ho coperto vendendo i future ok a questo punto quando mi succede come abbiamo visto prima ho un problema a rialzo come lo risolvo o come lo controllo in termini di rischio comprando le call terzo step della strategia ora quando compro le call e la strategia è chiusa chiaramente diventa una S se se la strategia l'ho fatta spendendo molto di più di quello che avevo incassato è una S sfavorevole una Z sfavorevole se è a pari livello da quello che avevo incassato questa Z si alza verso l'alto ci sono dei casi in cui la Z è tutta positiva perché perché se magari io ho attivato la copertura dei future a due giorni dalla scadenza delle put ho comprato le call che valevano pochi punti la strategia la Z diventa tutta positiva verso l'alto quindi il concetto è questo ma in tutti questi scenari comunque al terzo step quando io inizio a comprare anche le call ho un pavimento alle perdite cioè non può succedere nonostante che sia partito vendendo nudo le opzioni put che io abbia dei rischi teoricamente illimitati perché devo fare questo signori perché a differenza di altre logiche come quelle che spiegavo ieri qui uso la leva finanziaria se uso la leva finanziaria e a un certo punto non ci metto un tappo posso massacrarmi siete d'accordo quindi è molto importante ora la cosa più importante di questa strategia è che avendo tre step ed essendo non meccanica non c'è un computer che la fa per me c'è la mia testa di trader di operatore che clicca io devo fare questi tre step io la difficoltà quando partono con le persone che fanno il coaching con me è che a un certo punto la loro testa non reagisce più al protocollo operativo e che ne so partono vendendo le put e poi basta non fanno gli altri e se il mercato scende si prendono una barca e magari perdono in un mese 10-15 mila euro non va bene ma perché non hai fatto gli altri step operativi quindi questa qui è una operatività scacchistica strategica anche relativamente tranquilla perché con gli ordini condizionati si gestisce abbastanza bene però come tutte le operatività di questo mondo c'è bisogno di disciplina se non siete disciplinati non potete fare questo tipo di attività ma non quella che vi propone Stellato tranquillamente anche l'intraday dei colleghi quei vicini cioè se non siete disciplinati non si può fastaro quindi mi raccomando è chiaro che con questa logica noi non facciamo tanti eseguiti è un lavoro strategico tranquillo e partiamo con un incasso che solo le opzioni vi fanno partire col segno più quindi pensateci è interessante io credo di aver terminato il tempo vi ringrazio c'è Annalisa a disposizione se avete bisogno per il 30 di novembre alla prossima arrivederci grazie grazie Grazie.